Una settimana dedicata alla donna, tante iniziative, di che cosa si tratta? Noi come ospedale di Sapri siamo l'unico presidio ospedaliero della provincia di Salerno che è stato insignito del cosiddetto Bolino Rosa. È l'ospedale di riferimento per le donne, diciamo così. Garantiamo alle donne, a tutte le donne che ne hanno necessità, bisogno, durante questa settimana, dall'11 al 18 aprile, garantiremo tutta una serie di esami e visite gratuite. Abbiamo già riscosso molto successo, ci sono circa 200 prenotazioni e la donna avrà accesso a tutta una serie di prestazioni ed esami, ne cito solo alcune. A parte tutti gli esami di laboratorio prevedibili e prescrivibili, poi eco-mammari, eco-addome, eco-pervi, eco-color-dopper degli arti inferiori, eco-cardio, visita cardiologica ed ECG, visita ginecologica e pap test. L'ospedale è a disposizione, l'eco-mammaria è a disposizione delle donne in questa settimana. C'è ancora possibilità per le donne di iscriversi? Assolutamente sì, devo dire che grazie alla collaborazione di Gianfranco Gallo, che è responsabile del Bolino Rosa a livello ospedaliero, ci sarà possibilità di prenotare anche in qualunque ora della giornata. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.